Hola e bentornati ancora un'altra volta a spettabri make sicuramente forse per l'ultima volta ma per il modo solito vi ricordo di iscrivervi assolutamente come prima cosa e adesso dopo che siete iscritti tutti possiamo riconciare oggi sicuramente avremo da analizzare l'annuncio del direct anche se sicuramente non ci sarà molto da analizzare però vabbè comunque sicuramente oggi il giorno prima del direct ci sarà l'annuncio appunto del direct perché ormai è arrivato il momento sicuramente dell'annuncio quindi oggi non c'è molto da analizzare potremmo analizzare anzi un leak però è già stato smentito quello dell'audio in corso della notte di un trader possibile mai stato già smentito quindi non ci posso dire semplicemente ci vediamo al prossimo video che sicuramente sarà oggi un leggo subitissimo dopo l'imminente annuncio del direct e forse ce ne potrebbe essere addirittura un altro oggi ma non voglio alimentare speranze quindi nel caso ci vediamo domani ciao